Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che a dirla tutta trovo piuttosto strano. Ecco perché ho deciso di trattarlo in un modo un po' particolare, cioè con un video diverso dai soliti. Partiamo dunque dal protagonista della vicenda, Giacomo Sartori, per poi analizzare insieme una serie di anomalie che ho riscontrato e che non mi convincono. Ma come sempre, procediamo con ordine. Giacomo Sartori ha 29 anni, ha conseguito una laurea triennale in management aziendale ed è un tecnico informatico. È originario di Mel, in provincia di Belluno, ma risiede a Milano, in Via Solari, dove convive con un altro inquilino. Mentre lavora in un'azienda di software di Assago, non è fidanzato ed esce spesso con gli amici. La mattina di sabato 18 settembre 2021 Giacomo non si presenta all'appuntamento con alcuni clienti, mentre lunedì non va al lavoro senza avvisare. Giacomo sembra proprio scomparso, così la famiglia sporge denuncia ai carabinieri di Belluno. Ma perché è sparito? Che cosa è successo? Il ragazzo viene visto l'ultima volta venerdì 17 settembre. La mattina saluta il suo coinquilino e lascia l'appartamento per andare al lavoro, ma non farà più ritorno a casa. Venerdì sera, dopo il turno in azienda tra le 21 e le 22, si reca con alcuni amici nella Vineria 2, un locale sito in Viale Veneto, a Milano. Chiacchierano, ordinano delle birre, poi Giacomo si rende conto che il suo zaino, lasciato appoggiato alle gambe del tavolino, è sparito. Nello zaino ci sono il computer che usa per lavorare, il suo pc personale, il portafoglio, i documenti e il cellulare aziendale. Invece il suo smartphone personale continua a essere in suo possesso. Alle 23.30 Giacomo si allontana, non prima di aver chiesto ai gestori del locale se per caso avessero individuato uno zainetto rosso, ma questi ultimi rispondono di no. Il ragazzo si dimostra arrabbiato con i suoi amici, ne parla con loro, ma non si fa aiutare in alcun modo, dice di voler tornare a casa e si limita a uscire dal locale. E qui, a mio avviso, emerge la prima anomalia. Se sei in compagnia di alcuni amici e subisci un furto, oltretutto di tale portata, perché non ne parli in modo approfondito con loro? Perché non chiedi aiuto? Perché non chiedi se hanno visto qualcuno di sospetto avvicinarsi al tavolo? Va considerato pure che, un paio di mesi prima, gli era successa una cosa simile. Avevano sfondato il vetro dell'auto di Giacomo mentre era parcheggiata per sottrarre il suo zaino, probabilmente il ladro. Lo aveva visto mentre lo riponeva nel bagagliaio. I genitori, a proposito della scomparsa di Giacomo, sottolineano che il figlio non si sarebbe mai allontanato senza una motivazione valida. Forse era scosso per il furto subito, anche se non lo aveva dato a vedere. Mafia era un'ennesima anomalia. La carta di credito del ragazzo non è stata bloccata, eppure Giacomo è una persona molto attenta. Senz'altro consapevole che, a seguito di un furto, va presa questa fondamentale precauzione. Intanto, amici, conoscenti e colleghi si mettono subito sulle sue tracce. La foto col volto sorridente di Giacomo fa rapidamente il giro di tutti i social network, diffuso dal fratello Tommaso e dal cugino Nicola. Nel post che circola in rete si specifica che Giacomo non ha con sé i documenti. Erano nello zaino rosso che gli è stato rubato venerdì, mentre sedeva al tavolo del locale. Una circostanza che, come detto, in apparenza non lo aveva turbato molto, anche se il fratello racconta che era scosso, pure perché l'episodio si era già verificato. In ogni caso, chi conosce il ragazzo non crede a una sua possibile fuga. Giacomo, infatti, viene descritto come una persona solare e seria, con la testa sulle spalle. Si ipotizza che potrebbe essere in giro con la Volkswagen Polo alziendale, grigio scuro, automobile fornita dalla ditta. Quella macchina, con cui il ragazzo aveva raggiunto il locale a Milano, non è ancora stata localizzata. Viene trovata nel pomeriggio del 21 settembre, tra Casorate Primo e Motta Visconti, nel Pavese. La vettura si trova nei pressi dei terreni dell'azienda agricola Cascina Cajella, lungo la strada provinciale, e risulta parcheggiata e chiusa. I carabinieri iniziano immediatamente i rilievi, anche se va precisato che non sono stati loro a rinvenire l'auto. La segnalazione è stata effettuata da un residente che ha contattato i carabinieri di Pavia, i quali hanno subito avvisato i colleghi del nucleo di Milano. Esaminando l'auto, i carabinieri della rilievi del nucleo investigativo di Milano hanno trovato la ricevuta del mancato pagamento del pedaggio dell'autostrada, in riferimento al tratto che va da Milano a Binasco, 21 chilometri più altri 10 per arrivare alla Cascina. Tragitto che Giacomo Sartori avrebbe percorso sapendo di non poterne sostenere la spesa, perché non aveva con sé il portafoglio. A me onestamente questi movimenti fanno riflettere. Sembra quasi che Giacomo sia uscito da quel locale convinto di beccare il ladro, dunque intenzionato a seguirlo. Ma come faceva a sapere dove si era diretto? Forse il computer era dotato di GPS? Se così fosse la situazione diventerebbe molto più chiara, in quanto il ragazzo avrebbe potuto seguire il segnale tramite il suo smartphone. Tra i misteri di questa storia si conta anche il tracciato di due celle telefoniche. Una che aggancia il telefono di Giacomo a Casorate Primo, intorno alle 2.30 di sabato notte. Mentre l'altra, alle 7.15 del mattino, registra l'accensione del cellulare dal comune di Motta Visconti. Tuttavia non vengono effettuate chiamate. Dai tabulati analizzati dai carabinieri di Milano si rivela però del traffico dati. Vale a dire che il ragazzo sta utilizzando la rete internet scambiando messaggi via WhatsApp. O che forse era impegnato in una chiamata fuori rete, usando il servizio di messaggistica. Risulterebbe un tentativo di chiamata effettuata di notte al fratello, che non aveva risposto. Forse usando un WhatsApp. I due paesi, Casorate Primo e Motta Visconti, distano 3 chilometri. Ma in aperta campagna le celle ne coprono decine. A sostenere l'inquietante ipotesi di una caccia notturna ai ladri dello zaino ci sono altre stranezze. Come il tracciato delle telecamere dei due paesi che inquadrano prima l'auto di Giacomo mentre gira a lungo per le vie del centro di Casorate. Poi lo intercettano di nuovo a Motta Visconti. Se ne ricava proprio l'impressione che il ragazzo stesse cercando qualcosa o che stesse seguendo delle istruzioni per recuperare i suoi averi. Questa è un'ipotesi sicuramente da approfondire che però indirizzerebbe le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Porta Magenta di Milano verso uno scenario ben diverso da quello dell'allontanamento volontario o del suicidio. Come detto tra Casorate e Motta Visconti ci sono tre chilometri di strada e la cascina a Caiella si trova praticamente a metà percorso. Il tracciato delle celle telefoniche proverebbe che il 29enne era vivo e si trovava in quella zona anche la mattina di sabato. Dunque si è fermato in macchina a riposare? A giro vagato per le strade di campagna di notte? Giacomo a quanto riferiscono i genitori era appassionato di escursioni in montagna ma di certo non era un alpinista. La campagna potrebbe avergli fornito un rifugio? Secondo i familiari Giacomo non aveva mai frequentato quelle zone. Aveva raggiunto pavia in bicicletta insieme a un amico ma avevano fatto tutt'altro tragitto passando da Certosa. Accanto all'automobile di Giacomo si snoda la ciclabile che da Biategrasso porta a Bereguardo. È una zona quella dove soprattutto nel weekend si registra sempre movimento ciclisti, runner, famiglie che passeggiano ma lì, a fianco, c'è anche un canale il Naviglio Bereguardo dove da subito si concentra l'attenzione degli investigatori. L'avamposto di comando viene allestito nella vicina caserma dei vigili del fuoco volontari di Casorate. I soccorritori conoscono la zona alla perfezione. Ogni anno capita che degli anziani si perdano o cadano nei canali. Sanno ogni punto critico in cui le correnti potrebbero aver trascinato un corpo. Conoscono i casolari abitati e quelli che potrebbero aver dato rifugio a Giacomo nell'ipotesi di una fuga volontaria. Tuttavia, l'acqua del Naviglio Bereguardo in questo periodo non supera i 40 centimetri. Non c'è corrente e il fondale è perfettamente visibile dall'esterno. Impossibile che Giacomo sia finito o si sia gettato nel canale. A pochi chilometri dal punto in cui è stata ritrovata la sua macchina scorre anche il fiume Ticino, dove pure si concentrano le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco iniziate via terra per poi proseguire con elicotteri e con l'intervento della protezione civile. Il Ticino non è balneabile, anche se alcuni lo ignorano. Le sue acque, sebbene apparentemente placide, causano ogni anno diverse vittime perché la corrente sommersa è molto forte e si rischia un attacco cardiaco per lo sforzo estenuante di provare a tornare a riva. Gli anziani della zona raccontano che il solo modo di salvarsi è lasciarsi trascinare sulla superficie dell'acqua in diagonale fino a raggiungere l'altra sponda, magari uno o due chilometri più a valle. Di solito la presenza di escursionisti e pescatori consente una rapida segnalazione di bagnanti in difficoltà o cadaveri nelle acque del fiume. Ma c'è un episodio nel passato di Giacomo Sartori, forse l'unico di questo tipo che attira l'attenzione dei familiari. Anni prima, dopo la fine di una relazione amorosa, Giacomo aveva voluto trascorrere alcune ore da solo e si era ricato in riva al Piave. Era poco più che un ragazzo, viveva ancora nel Bellonese. Aveva fatto una nuotata nel fiume e poi era tornato a riva. Giacomo amava nuotare, è un abile nuotatore, ma i familiari sottolineano che non si sarebbe mai avventurato in un fiume pericoloso. In ogni caso, il ragazzo ancora non si trova. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Si pensa a un burnout legato allo stress per il furto subito, una sorta di goccia che ha fatto traboccare il vaso, in un'esistenza logorante e vissuta a ritmi frenetici. Ma più che una certezza legata allo stato di salute del giovane, è una supposizione, l'unica spiegazione di un allontanamento volontario. L'ipotesi di un delitto pure non è escludibile a priori, ma secondo gli investigatori è remota. Non ci sono indizi che diano fondamento a una versione circa un rapimento o un assassino. La zona di Casorate è nota in tutta Italia per concentrare una presenza elevata di esponenti delle famiglie calabresi dell'Andrangheta. Ma in questa storia gli inquirenti escludono con certezza il coinvolgimento delle mafie e della criminalità organizzata. Nella mattina di venerdì 24 settembre, ahimè, il corpo senza vita di Giacomo viene trovato impiccato a un albero. Si trova a pochissima distanza dal luogo in cui era parcheggiata l'auto. A fare la scoperta è stata la vice coordinatrice della protezione civile di Bereguardo, che venerdì mattina è arrivata alla cascina e ha cominciato da lì a perlustrare la zona. Ha notato un segnale stradale adagiato sull'erba. Sopra c'erano appoggiate le chiavi dell'auto e il telefonino del ragazzo. Spento. Ha quindi alzato gli occhi e l'ha visto. Il corpo di Giacomo era appeso piuttosto in alto a una grande quercia dai rami molto fitti e per mezzo di un cavo elettrico utilizzato a seguito di una catenella. I proprietari dell'agriturismo Cascina Caiella e del terreno circostante hanno riferito di essere stati più volte nel frutteto durante la settimana per svolgere i consueti lavori. Tra l'altro era in corso anche la potatura della siepe. Ma non si erano accorti di nulla. La telecamera del cimitero di Motta Visconti dimostra che la mattina dopo il furto Giacomo era in giro, forse alla ricerca del ladro. Non è del tutto chiaro perché si sia spinto nella zona di Casorate Primo. Il sostituto procuratore di Pavia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo ma non è escluso che possa prevedere il reato di stigazione al suicidio. Al momento però non risaltano elementi che facciano pensare alla presenza di altre persone sul luogo del ritrovamento del corpo. Pare che il giovane avesse trovato una catena nel capanno degli attrezzi eretto dietro la cascina. Avrebbe quindi provato a impiccarsi con quella ma si è spezzata. A quel punto Giacomo ha recuperato un cavo elettrico l'affisso al ramo si è lasciato cadere. Questa ricostruzione, fate attenzione, vede Giacomo salire sul ramo della quercia per afferrare il nodo a scorsoio ma il ramo da cui si sarebbe lasciato cadere si colloca a più di tre metri di altezza eppure Giacomo non aveva alcun tipo di segno sui vestiti. Questo appare strano se una persona si arrampica lungo una quercia per raggiungere un ramo sospeso a tre metri di altezza i vestiti che indossa potrebbero strapparsi o macchiarsi invece quelli di Giacomo si presentano in ordine. Come già detto, il corpo era appeso tramite una grossa prolunga elettrica con una corda. Questo rende la situazione ancora più strana perché è molto difficile far scorrere una prolunga attraverso un nodo a scorsoio. Basti pensare che nel passato, quando venivano praticate le impiccagioni, il boia era solito ingrassare la corda per agevolare lo scivolamento. Inoltre, come riportato poco fa, pare che prima di utilizzare la prolunga Giacomo avesse provato a servirsi di una catena che poi si è rotta. Risulta pressoché impossibile impiccarsi con una catena. Ma è anomalo pure quello che Giacomo avrebbe fatto dopo. Cioè, rimanere in quelle zone di aperta campagna che non conosceva a seguito del primo tentativo di suicidio fallito per riprovare ad ammazzarsi. Non sarebbe stato più istintivo risalire in macchina e cercare un altro posto piuttosto che rimanere lì? Le persone che vogliono togliersi la vita di solito non ragionano con lucidità, sono confuse e addolorate, mentre, secondo questa ricostruzione, Giacomo sembra agire freddamente. Sale sul ramo dell'albero, a tre metri da terra. La catena si rompe. Così scende di nuovo dalla quercia e si mette a cercare qualche altro strumento che faccia il caso suo. Mi pare una dinamica un po' forzata. Voi potreste dirmi Non è vero, Silvia, che si toglie la vita, è molto tranquillo, presente a se stesso, sa quello che vuole fare. E io vi rispondo che, alcune volte è vero, che ha già preso la decisione, è quasi in pace con se stesso, a volte. Ma non dobbiamo dimenticare che Giacomo, probabilmente, l'intenzione di fare quel gesto non ce l'aveva dal principio, se è stato lui a farlo. Mi risulta difficile pensare a un ragazzo che vuole togliersi la vita e inizia a vagare in zone che non conosce pensando di trovare un posto adatto. Piuttosto, a mio parere, si vanno a cercare delle zone che si conoscono, in cui in un certo senso si è tranquilli, perché magari si sa che non passa nessuno, o che comunque è un luogo abbastanza isolato e non così tanto frequentato. Tuttavia, secondo gli inquirenti, i dubbi sul gesto volontario sono pochi. Pensare a una messa in scena in un'area tanto frequentata è difficile. Sul corpo di Giacomo non sembrano esservi lesioni, ma bisogna verificare se ci sono tracce, su mani e braccia, della doppia arrampicata lungo il fusto e i fettirami. La suola delle scarpe e la camicia bianca a maniche lunghe non evidenziano segni particolari. Allo stesso modo non si rilevano neanche quelli di trascinamento del corpo. Il cellulare e le chiavi sono stati lasciati a terra, appoggiati su quel cartello di divieto di sosta che, in origine, era attaccato alla catena. Il segnale sembrava intonso, idem per il vetro del cellulare, anche se sabato c'era stato un temporale. Sottigliezze? Dettagli? Per gli investigatori è meglio non tralasciare nulla. Il primo esito dell'autopsia sul corpo di Giacomo evidenzia una morte per impiccamento. L'esame medico-legale eseguito a Pavia ha quindi confermato la sfissia dovuta all'azione meccanica del cavo elettrico, legato intorno al collo e al ramo della grande quercia. Le indagini, però, proseguono. Gli investigatori vogliono capire, ammettendo il suicidio del giovane, che cosa lo abbia spinto in piena notte, in un luogo sconosciuto, e perché abbia deciso di farla finita. L'interrogativo degli inquirenti è sempre il medesimo. Giacomo Sartori era riuscito a tracciare il percorso di fuga dei ladri? Aveva avviato una trattativa con loro, il classico cavallo di ritorno con richiesta di denaro in cambio della restituzione dei suoi beni? Perché non aveva dato l'allarme al 112 prima di inseguire i ladri? Possibile che i malviventi si nascondessero vicino alla cascina caiella e che Giacomo, sconfortato per non essere riuscito a recuperare i suoi averi, avesse deciso di uccidersi? I carabinieri riescono a recuperare i documenti del giovane e due mazze di chiavi che custodiva nello zaino all'interno dei giardini montanelli, non lontano dalla vineria. Gli ha trovati un passante accanto a una panchina, poi li ha consegnati agli investigatori. Arriviamo al 7 maggio 2022. C'è un solo mistero che le indagini ancora non sono riuscite a chiarire. Il movente. Perché Giacomo ha deciso di togliersi la vita? Perché lo ha fatto in provincia di Pavia, dove mai era stato in precedenza? Del resto, spesso nelle inchieste sui suicidi sono proprio le ragioni del gesto estremo a rimanere più intime e incomprensibili. In otto mesi, la famiglia di Giacomo ha messo insieme i tasselli di una vita, istanti e parole ai quali prima non aveva dato peso. Ha affrontato il dolore della morte, indagando su risposte che è giusto, rimangano private. Tutto il resto, il giallo della scomparsa di Giacomo e il ritrovamento del suo corpo, impiccata a una quercia vicino alla cascina Cajella, ha trovato una soluzione nelle indagini dei carabinieri e della procura di Pavia. Il PM dunque è pronto per chiedere l'archiviazione al giudice. L'autopsia ha confermato l'assenza di segni di violenza o di pressione esterna. Il DNA sulla catena e sul cavo elettrico utilizzati per togliersi la vita, il primo tentativo era andato a vuoto, era solo il suo. Lo stesso per il materiale biologico e le impronte identificate sul cellulare che la vittima ha lasciato ai piedi dell'albero sul segnale stradale. E anche nell'auto di Sartori non c'erano altre tracce recenti di DNA ad esclusione delle sue. Unico dettaglio degno di nota, i sedili spostati rispetto alla normale posizione di guida, ma compatibili con il fatto che il ragazzo sia rimasto diverse ore in auto a riflettere e forse a dormire prima di farla finita. Il lavoro del medico legale ha permesso di appurare che la vittima non aveva ingerito altro dopo aver lasciato il locale di Porta Venezia. Le indagini sul tracciato del cellulare hanno confermato che Giacomo, dopo il furto subito, era tornato a casa per diversi minuti, ma non era salito in casa, era rimasto in macchina e poi l'aveva riaccesa ed era ripartito dopo la mezzanotte. In quelle ore ha tentato di collegarsi da remoto al sistema di gestione del pitch aziendale. Secondo gli inquirenti avrebbe tentato di cancellare gli hard disk del computer della ditta rubato. Operazione è mai impossibile visto che il pc era spento e scollegato. Cosa conteneva quel computer? Secondo il datore di lavoro, materiale di poco conto, forse c'era qualcosa di personale che riguardava Giacomo e che lui voleva cancellare. Quindi le indagini avrebbero chiarito che non c'è nessun enigma sulla scomparsa di Giacomo. In realtà, un mistero resta, il vero motivo di un gesto tanto disperato. Decaduta l'ipotesi della caccia al pc, riemerge quella del burnout, ossia dell'esaurimento emotivo. Un disagio che forse si trascinava da tempo? Giacomo non aveva molti amici e neppure una ragazza da quello che si è potuto ricostruire. Inoltre, a quanto pare, sul lavoro faticava a esprimere le proprie capacità. Insomma, ogni suicidio trascina con sé storie e motivazioni diverse, spesso insondabili, che conducono alla decisione estrema. Tuttavia, qualche indicazione a riguardo proviene proprio dalla famiglia, che in otto lunghi mesi ha cercato di risalire ai pensieri che potevano aver assalito il giovane informatico. Forse un disagio mai notato, ma che da tempo si trascinava sotto traccia. Può essere la spiegazione. Anche se lo scuro pensiero che ha spinto il bellunese a girovagare in auto nel buio della campagna pavese, finendo per rubare una prolunga e utilizzarla per togliersi la vita, forse non verrà mai decifrato completamente. Come vi ho detto ai genitori di Giacomo, se ne sono fatti in qualche modo una ragione, ma niente mi toglie dalla testa che questo è davvero un caso strano. Ovviamente io non conoscevo questo ragazzo, ma vi ho elencato le mie perplessità, in quanto anche gli inquirenti sono rimasti un attimino interdetti inizialmente. Non so cosa avesse Giacomo dentro di sé. Non ho la presunzione di saperlo o di ipotizzarlo. So solo che analizzando le azioni che ha fatto, non posso pensare che il tutto sia avvenuto in modo lineare, che tutto torni, che tutto abbia senso. Ma si sa che in questi casi il senso probabilmente lo trova solo la persona che commette questo gesto estremo. Detto questo io ho finito di parlare in questo video, spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Se conoscevate questo caso, sono molto curiosa di leggere i vostri commenti e vorrei cercare di capire se siete sulla mia stessa lunghezza d'onda oppure no. Insomma, fatemi sapere quello che volete qui nei commenti. Come vi dico sempre, ci si becca lì. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!